La quarta. Tres. È facile. È tutto facile. È stato un gioco olimpico di Londra e di Rio, perché tutta la mia vita ho lavorato molto nel deporte per ottenere una partecipazione in olimpi, ho ottenere due. Il mio sogno è stato di giocare a più alto livello, potrei aver giocato meglio, ma le condizioni anche in portogallo non sono le migliori. E ora voglio iniziare a insegnare i ragazzi e che un giorno potrei andare a un gioco, ma come un gioco. Grazie. 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 Grazie a tutti.